Saluton! Mi estas felicia, mi povas paroli vin. Mi estas pino, chiuvi estas? Eravamo una famiglia e poi mancato il padre, in quella casa broletaria con le porte sempre aperte. Entrava chiunque ad ogni ora, pino tornava dalla ferrovia, se io stavo ancora lavorando andava di là a cucinare. Per noi e chiunque era in casa, invitava tutti a restare. Io sono anarchico, tu come la pensi? Invitava tutti a chiacchierare. Io sono anarchico, tu come la pensi? Invitava tutti a chiacchierare. Con le tensioni del mondo entrava in casa l'allegria, la mia macchina da scrivere le tesi impaginate. Quanti ragazzi in giro per casa si finiva poi per parlare di tutto. I vicini avanti e indietro poi tanti bambini, compagni di gioco per le piglie. Gli studenti sopra i fogli da correggere, o in cucina a fare i caffè. Io sono anarchico, tu come la pensi? Invitava tutti a chiacchierare. Io sono anarchico, tu come la pensi? Invitava tutti a chiacchierare. Poi è arrivato il 69, un anno pieno di angoscia. Anche noi due la sentivamo. Non vedo l'ora che finisca questo anno. Anche noi due la sentivamo. Non vedo l'ora che finisca questo anno. 12 dicembre Pino torna dal lavoro, va alle 6 di mattina e va a dormire. Porto a scuola le bambine, faccio la spesa, torno e pulisco il pavimento. Si presenta un compagno, vai di là a svegliarlo. Sono le due, è tempo di andare. Prenditi il cappotto, non ne ho bisogno. Prenditi il cappotto, è l'ultimo ricordo. Io sono anarchico, tu come la pensi? Invitava tutti a chiacchierare. Io sono anarchico, tu come la pensi? Invitava tutti a chiacchierare. Appena poche ore arriva la polizia. Si mettono a cercare cosa spera di trovare. Qualcosa di nascosto, sì che c'è. I regali delle figlie per il Natale. Le bambine continuano a domandare. Dov'è, dov'è il nostro padre? Fino alla notte, fra il quindici e il sedici. Non smettono, non smettono di domandare. Io sono anarchico, tu come la pensi? Invitava tutti a chiacchierare. Io sono anarchico, tu come la pensi? Invitava tutti a chiacchierare. Tiro giù il cappotto da dietro la porta. Avevano ucciso e difamato Pino. Attaccavano gli anarchici. La battaglia era politica. Non potevo combatterla sotto l'impulso dei sentimenti. La rabbia e il dolore li lasciavo dietro. Ma la notte restava mia. Soltanto il giorno era un'altra cosa. Ciao Pino